Una giornata molto importante di sport e amicizia. La squadra dei giovanissimi dell'Aquila, insieme a quella della Roma, ha voluto disputare questa partita devolvendo tutto il ricavato all'associazione aquilana L'Aquila per la Vita, in occasione della prima edizione del torneo Italo Foschi. L'Aquila per la Vita, associazione ormai molto conosciuta in città, è sempre vicina ai malati oncologici e ha un'equip ben organizzato e riesce a dare un grande supporto medico e psicologico a tutti i pazienti. Molte le attività di beneficenza che supportano l'Aquila per la Vita e il torneo Italo Foschi è stato proprio un esempio di questi. Siamo riusciti a cogliere l'obiettivo, uno ricordare la figura di Italo Foschi che comunque è riuscito con grandissima volontà a fondare la S-Roma e quindi questo è un ricordo personale di mio padre che era il nipote prediletto e per me personalmente è una soddisfazione perché essendo aquilano è un'occasione per stare insieme, per portare il nome dell'Aquila, per fare giocare i ragazzi dell'Aquila. Insomma ancora non abbiamo smaltito questo benedetto 6 aprile, iniziamo a reagire. Il Presidente Zingarelli, Riccardo, siamo amici da una vita, quando ci ha proposto di essere i destinatari ovviamente siamo stati orgogliosi innanzitutto perché ci sentiamo parte di una comunità di grande sensibilità e la giornata di oggi lo dimostra in maniera compiuta e io simbolicamente voglio donare un pezzo di cuore dell'Aquila per la vita al nostro Presidente, al mio amico Riccardo e al Presidente del Roma Club. Questa è la nostra mattonella e il nostro aquilano. La facciamo vedere. Grazie. I giovanissimi della Roma hanno poi avuto anche la possibilità di visitare la città dell'Aquila e il maestoso museo del primo Presidente giallorosso. L'intenzione del Roma Club l'Aquila è di continuare nei prossimi anni questa importante manifestazione che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati di calcio. Il primo trofeo Italo Foschi doveva essere una giornata di festa, una giornata di sport, una giornata di giovani e ci è riuscito penso pienamente con molto molto merito di chi ha voluto rispondere perché fra altre cose tutto l'incasso verrà devoluto in beneficenza dell'Aquila per la vita.